Ciao a tutti, Dante Prima Cinema. Vediamo il trailer del film Ancora Tu. A dopo per le news di oggi. Eri più carina con la maschera. Sei tu il capo. Non c'è niente di cui aver paura. Raggi, raggi! Per te è stato diverso, mamma. Dici? Una ragazza mi ha reso la vita un inferno al liceo. Sia Moni, lei è la mamma di un... Dei? Ramona, quanto tempo è passato. Beh, non dirlo, dovrò strangolarti. Il liceo è stato un horror e questo weekend è il sequel. E' stata capitano delle cheerleader. Sì! Trello potere! Reciti alla perfezione il ruolo della Santarella. Allora la gattina graffi. Questo weekend è un disastro. In punizione, in camera vostra. Non ce l'ho fatta lasciarmi tutto alle spalle. Sei umana, sbagliare fa parte della vita. Quello che conta è come rimediamo gli errori. Hai avuto un sacco di ragazzi, vero, Gioanna? Tim! Ridammi il tuo numero, risultava sempre bloccato. 5-5-5-0-1-7-2. Mi trovi anche su Facebook e su Twitter. Ancora tu. Arrivano i nostri cinema, venerdì 5 novembre, questa divertente commedia diretta da Andy Fickman e con un cast davvero stellare. Kristen Bell, Sigourney Weaver, Jamie Lee Curtis e Betty White. Kristen Bell è Marnie, una PR di successo che torna a casa per il matrimonio del fratello maggiore. Tutto sembra perfetto, fino a quando Marnie non scopre che la futura cognata non è altro che la sua cerrima nemica del liceo. Le due ragazze daranno vita ad una guerra fredda che coinvolgerà tutta la famiglia. La Rocky Horror Mania sbarca anche a Roma. Così, dopo New York, Londra e Milano, ora anche nella capitale italiana, il musical più pittoresco della storia sarà proiettato settimanalmente. Diretto da Jim Sherman ed interpretato da Susan Sarandon e Richard O'Brien, The Rocky Horror Picture Show è uscito nel 1975 ed è diventato un vero e proprio film cult per diverse generazioni. E per oggi è tutto, arrivederci da Anteprima Cinema.